Eccolo se io domani ragazzi, rieccoci tutti quanti, carichi pimpanti, arzili nel canale, un altro video insieme, una buona serata anche a voi lì da casa, terzo contenuto di giornata e invito tutti voi come sempre a lasciare un bel pollicione alto alto e poderoso se il video fosse stato di vostro gradimento, iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto e attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre e costantemente aggiornati sulla postatura di ogni contenuto giornaliero. Come avete visto è arrivato il comunicato ufficiale da parte della Juventus circa un'oretta fa per quanto riguarda Wojciech Szczesny. Ringraziamo come ho detto il portiere polacco dopo sette stagioni molto intense con un feeling che è nato praticamente subito col portiere polacco. Ovviamente il classe 90 ha avuto 252 presenze in bianconero con circa 100 clean sheet quindi inevitabilmente è stato veramente un buon portiere, ha avuto anche il primo di miglior portiere della Serie A diverse volte e ricordiamo anche che ha parato se non sbaglio 8 rigori su 31 che ha fronteggiato. Quindi una media incredibile, veramente straordinaria e sicuramente l'unico problema per il quale non è stato mantenuto alla guardia dei pali della Juventus proprio il discorso legato al nuovo modo di giocare di Tiago Motta che voleva un portiere moderno che giocasse con i piedi. Ma a livello di prestazioni tra i pali sicuramente non aveva nulla da invidiare a nessun portiere della Serie A. Ovviamente in questa speciale classifica ci mettiamo sicuramente anche Megnan del Milan e Sommer che a mio modo di vedere sono i migliori in questo momento. Ecco, diciamo nient'altro da aggiungere, soltanto un grazie al nostro portierone che ci ha accompagnato in questo lungo percorso e con cui abbiamo vinto tre campionati, tre Coppi Italia e due Supercoppi italiane. Quindi va ricordato comunque lo score di questo portiere che ricordiamolo fino all'ultimo ha dato tutto quello che aveva anche quest'ultima stagione in cui siamo riusciti ad arrivare appunto terzi in classifica alzando una Coppi Italia. Quindi in bocca al lupo Scesni, Tech come lo abbiamo chiamato per questi sette anni, ovviamente vedremo dove andrà, cosa sceglierà per la sua carriera, se continuerà a dare il suo sì anche per la nazionale polacca, no? Perché aveva detto che presto si sarebbe ritirato e vedremo se andrà nel calcio che conta, comunque in un club di un certo spessore oppure magari sceglierà la destinazione araba. Vedremo perché c'è anche l'ipotesi, no? Che lui possa addirittura decidere anzitempo di ritirarsi. Ne aveva parlato in maniera abbastanza, diciamo, superficiale, non ufficiosa. Però ecco, c'è anche quella piccola soglia, no? Di speranza, no? Che possa capitare. Comunque, a livello di gradimento, no? Anche da parte della compagna, c'era sicuramente anche la possibilità dell'MLS. Come sapete non si era fatto nulla, oltre che, come abbiamo ripetuto più volte, anche qualche spiraglio che si era aperto tra Fiorentina e Monza, ma poi nulla di che. Stesso discorso per quanto riguarda la Litiad e la Lanser in Arabia. Quindi, come ho detto, grandi bocca al lupo, un saluto, un ciao al nostro Scesni e grazie ancora per il contributo che hai dato per questi sette anni. Ecco, altro argomento importante, invece, quello che riguarda in questo momento due giocatori in uscita da parte della Juventus, che sono Rugani e Kostic. Come sapete, la lane in Emirati Arabi, il club forse più quotato, più forte, no? Degli Emirati Arabi, sta cercando di indirizzare, no? Daniele Rugani, classe 94, a scegliere loro. Si sta aspettando la risposta, appunto, di Daniele Rugani. L'unico in topo potrebbe essere proprio la decisione di Michela Persico, sua moglie, che comunque potrebbe prendere un, diciamo, un contratto pubblicitario importante andando in Arabia. Però, in questo momento non c'è ancora, diciamo, nulla che faccia pensare, con certezza, che il difensore andrà in Arabia. Quindi, come ho detto, aspettiamo di risciogliere le riserve. Sicuramente con l'Ajax non ci sono accordi in questo momento. Quindi, vediamo, appunto, il da farsi. Stesso discorso vale per Filip Kostic, il classe 92, perché fino a questo momento non c'erano club interessati in maniera preponderante. Soltanto qua anche sondaggio, come sapete, in Turchia col Galatasaray, il Fenerbahce, il Crystal Palace in Inghilterra. Però, è la prima volta che anche qui la lane, diciamo, mostra un interessamento. Per il momento soltanto all'inizio di un interessamento, perché finora la lane non aveva, appunto, fatto richieste sul serbo, sull'esterno sinistro. Però, ecco, come ho detto, se riuscissimo, in qualche modo, a dare Filip Kostic e Rugani entrambi alla lane, dove comunque ci sono soldi da spendere e il club può permettersi anche degli ingaggi di 2 milioni per Rugani e di 2,5 per Filip Kostic, allora potremmo risolvere altre due grane importanti a livello di esubero. Però, come ho detto ampiamente, anche da questo punto di vista non ci sono ancora delle garanzie di riuscita. Concludiamo il video, lo faccio sempre molto breve per darvi tempo anche di seguirlo e di tornare alle vostre cose, visto che è vigia di Ferragosto e auguro buona vigia a tutti voi e domani sarà Ferragosto. Ecco che, per il discorso centrale difensivo, al di là dell'argomento legato a Calullo, per cui si aspettano appunto notizie, c'è chi addirittura è positivo, che dice che il prossimo giorno potrebbe essere decisivo per la firma e le visite mediche, con Calullo che vuole sapere se ha spazio a Milano o meno. Ecco che Kivior e Sutalo sono ancora in orbita a Juventus, ma bisogna essere anche onesti nel dire che Kivior, essendo un giocatore che è già stato allenato da Motta in quel di Spezia, non rappresenta il prototipo ideale per la Juventus in questo momento, perché evidentemente conosce troppo bene Tiago Motta e viceversa, mentre Tiago Motta predilige un qualcuno che lui non ha mai allenato, forse è più facile in qualche modo ottenere il meglio da un giocatore che non conosci. Però ecco, come abbiamo detto, l'Arsenal ha già preso Calafiori, che sarà fondamentalmente titolare, classe 2002, e Kivior vorrebbe venire via, proprio perché non è sicuro di avere spazio e minutaggio. Come abbiamo detto, la Juve non vuole assolutamente il prestito con obbligo, nemmeno l'acquisizione a titolo definitivo del cartellino del polacco, e quindi diventa difficile aspettare fino all'ultimo per un prestito con diritto. La stessa discorso vale per Sutalo, per cui l'Ajax non cede appunto alle losing delle Juventus, solo a titolo definitivo 15 milioni dovrebbero essere versati nelle casse dei lanceri, oppure, come ho detto, non si accetta l'obbligo di riscatto, perché, come ho detto, se la Juventus e Giuntoli dovessero inserire delle postille difficili da raggiungere, ecco che l'Ajax rimarrebbe bocca asciutta, e anche con un giocatore in uscita non riuscirebbe a monetizzare, e quindi si potrebbero mangiare le mani, magari di non aver accettato delle proposte di altri club che erano disposti non solo ad offrire 15, ma magari anche di più, nonostante comunque sia un giocatore piuttosto giovane, è ancora futuribile. Quindi in questo momento questa è la situazione che si sta delineando nel mercato Juventus a livello di esuberi. Ancora ad oggi non ci sono delle novità per quanto riguarda le entrate, perché, come abbiamo detto, John Elkan in questo momento non sta anticipando soldi per Giuntoli, quindi l'unica speranza che abbiamo appunto di cominciare il mercato d'entrata è proprio che si possano trovare delle formule vincenti a livello di pagamenti delazionati, quindi per quel che riguarda Calulu, abbiamo detto, 3,5 subito e poi eventualmente altri 14 per concludere il presto oneroso. Con Cubminers probabilmente 55 inclusi bonus, ma con dei delazionamenti importanti e pagamenti in più esercizi, proprio perché bisogna in qualche modo anche prendere i soldi di Sule e Uisen e creare impatto a livello di liquidità e poi anche con Conseil Sao e Nico Gonzale stesso discorso. Bisogna che le due società, Fiorentina e Porto, diano delle condizioni di pagamento in più esercizi molto agevoli. Ditemi la vostra, forse io fino alla fine, scarica dei commenti. Grazie a tutti.